Matteo Lagana, allora innanzitutto complimenti, sono state tre partite, forse questa diversa dalle altre due con la Finlandia, insomma avete sofferto parecchio. Sì, è stata una bellissima partita, molta intensità, abbiamo retto molto bene il campo anche fisicamente, abbiamo difeso bene soprattutto negli ultimi minuti, abbiamo tenuto sotto i 65 punti la Finlandia che è un grande obiettivo per noi. Infatti il coach Capobianco questo ha voluto dire, nell'ultimo quarto avete costretto almeno 4-5 volte a tirare i vostri avversari oltre 24, dopo tutti questi giorni di allenamento, insomma penso che questo sia il segnale migliore. Certo, certo, bisogna arrivare più preparati possibile all'Europeo dove ci aspetta un bel girone, quindi arriviamo più pronti possibili. Senti, l'Europeo siete capitati in un girone veramente di ferro, Croazia, Grecia, Lettonia, sensazioni? Positive, positive, stiamo lavorando abbastanza bene col gruppo, mi trovo abbastanza bene personalmente, quindi andiamo avanti così. Un'ottima considerazione, te la devo fare questa domanda, in questo parquet e su questo parquet soprattutto, quando tu ancora non eri proprio nei pensieri del tuo papà, ha giocato il tuo papà Lucio Vagana che è stata una guardia indimenticata qui a Campobasso, penso che te ne avrà parlato di questa città e di queste esperienze. Sì, papà mi ha parlato tantissimo, per lui è stata una bellissima esperienza, si è trovato benissimo, giocare qui sicuramente in questo parquet è molto bello, molto bello perché appunto papà ha giocato qua, quindi ripercorrere il percorso fatto da papà è molto bello.